Allora, con mister Ricci, mister purtroppo ci duriamo a commentare la terza sconfietta consecutiva. Eh sì, purtroppo le cose non accadono mai per caso, questo è il gioco di parole, però effettivamente ci mettiamo qualcosa in meno degli altri. Il gioco c'è, giochiamo, arriviamo avanti alla porta, però poi punizione, rimpallo, loro fanno gol, punizione, rimpallo, noi la mandiamo fuori. L'occasione dentro la porta, in 3-4, che calcio una palla, la palla rimane lì, non segniamo, poi sbagliamo un fallo laterale e prendiamo il 2-0. Ovviamente, dato atto alla squadra avversaria, che comunque ci hanno messo qualcosa in più di noi, sicuramente. Non dico come gioco, perché comunque abbiamo giocato, la partita è stata anche combattuta, però ecco, nelle occasioni siamo stati più passenti, nel senso che abbiamo creato occasioni, ma poi sterili, perché non abbiamo la cattiveria giusta per mettere la palla dentro. Perché poi l'obiettivo del gioco è questo, se non c'è quella cattiveria in più e c'è l'avversario, prima o poi il gol lo prendi. E quindi ecco quello che abbiamo pagato. Questa è un po' l'analisi massima. Diceva anche Cencetti, partita vera, partita combattuta, a primo tempo deciso da un episodio, nella seconda frazione, forse all'agricerca del Parigi, siete un po' sfilacciati però. Sì, sì, verso la fine sì, ovviamente abbiamo cambiato un po' modulo e ovviamente abbiamo cercato di recuperare la partita. Poi abbiamo preso un gol su un fallo laterale nostro, quindi è una grossa ingenuità, però purtroppo c'è. Però ecco, se poi non c'è la cattiveria per riprendere il risultato, per riprendere la partita, non lo puoi fare solo col gioco e arriva a tanta porta, perché se poi non concludi e ci metti determinazione, come li prendi, non li rifai e la partita finisce 2-0 per loro e finisce qui. Quanto pesa per questo mister gesto l'assenza di Francucci al centrocampo? Beh, Guido, forse paghiamo proprio questo attualmente, ma paghiamo non solo l'assenza di Guido, ma che è il fatto di avere rincalzi che ci garantiscano la stessa qualità. Però adesso Guido rientrerà, spero già dalla prossima settimana e ci prenderemo la rivincita in Coppa Italia con l'Eurobet. Perfetto, in chiusura, prossima partita contro la selezione romana, squadra molto giovane, molto atletica, il tipo di squadra che forse il mister Jeff ha dimostrato di soffrire un pochino. Sì, loro le soffriamo, però poi bene o male usciamo sempre con un risultato positivo, quindi speriamo che sia ancora così. Soffriamo le squadre ovviamente molto più giovani, però poi fondamentalmente con un po' di esperienza riusciamo sempre a portare a casa qualche punto. Perfetto, ringrazio Mr. Ricci. Grazie.